Ehi la pochi fanatici, io sono DelArz e bentornati in questo nuovo video. Pasqua sta per arrivare, ormai manca circa una settimana e quindi, come l'anno scorso, dato che il video vi era particolarmente piaciuto, sono di nuovo qui, anche in questo 2018, con il video sulle uova di Pasqua Pokémon! Finalmente ragazzi, sta per arrivare la Pasqua, comunque, finalmente! Era da Natale che non avevamo un po' di vacanza tutti, sia io che voi, ma soprattutto voi perché molti di voi vanno a scuola, quindi immagino quanto sarete contenti perché la scuola chiude, arriva la Pasqua, arrivano le vacanze, arriva la cioccolata, arrivano tante belle cose e se non dovesse essere abbastanza per rendervi felici, oggi ci penserò io con questo bel video delle uova Pokémon! Alla faccia della presunzione! Prima di cominciare, ovviamente, vi invito a lasciare un bel pollice in su, vi raccomando, pochi fanatici, tanti bei like e fatemi sapere se anche voi avete acquistato le uova di Pasqua Pokémon che comunque mi sembra si trovino in ogni supermercato, io tipo le ho viste ovunque, le ho viste sia la Cop che alla Conad, anche in altri comunque, quindi si trovano davvero ovunque e fatemi sapere cosa avete trovato di sorpresa! Scrivetemelo qui sotto con un bel commentino e adesso andremo ad aprire le nostre! Ne avremo ben 5, quindi potremo vedere, si spera, 5 sorprese diverse, ma non ci conterei! Inoltre vi avviso che questo NO non è un episodio degli acquisti Pokémon perché le uova le ho già portate per l'episodio degli acquisti Pokémon dell'anno scorso, non volevo fare una cosa uguale, quindi vi porto il video delle uova a parte e il vero episodio degli acquisti Pokémon di marzo arriverà tra qualche giorno, vi raccomando! Quest'anno le uova sono uscite di 5 tipi diversi, ovviamente sempre della marca come era WITORS, tipo come l'anno scorso, solo che l'anno scorso non le ho trovate nei centri commerciali, non le ho trovate da nessuna parte e inoltre non ho avuto tempo l'anno scorso per comprarle fisicamente, quindi ne ho ordinata una da Amazon, una sola, e l'ho pagata 15€, alla faccia! Quest'anno invece mi sono mobilitato e quindi le ho prese tutte 5, abbiamo gli starter Rowlet, Popplio, Litten, Snorlax e Pikachu. Posso capire gli starter e Pikachu, perché Snorlax? Ed ecco qui la prima, quella di Rowlet, guardate quanto sono belle tra l'altro, già tutta la decorazione sulla parte in plastica è troppo bella con tutti i Pokémon, e poi ovviamente, oh Rowlet, lo starter più amato di settima gen! Poi abbiamo Popplio, ovviamente immancabile, poi c'è Litten, lo starter fuoco, Snorlax, che giustamente se si parla di roba da mangiare, come in questo caso le uova, non puoi non mettere Snorlax, forse è per questo che l'hanno fatto, non lo so. E infine Pikachu, perché Pikachu non può mai mancare, è lui che comanda la baracca qui, eh? Ma adesso basta parlare e andiamole ad aprire, anche perché voglio scoprire quali sono le sorprese. Ovviamente non mi sono informato su quali siano le sorprese all'interno delle uova di Pokémon, perché non mi sono informato purtroppo, ma speriamo che sia roba bella. Vediamo, ma dai, le uova non sono nemmeno troppo grandi, sono così, ci può stare. Adesso però devo stare attento perché non voglio ridurre la mia scrivania a una roba piena di cioccolata sparsa ovunque. Basta già il mio disordine. No ragazzi, si è rotto questo. Adesso non posso nemmeno mettere i pezzettini di uova qui dentro, potrebbero uscire. Dove li metto? Ah, aperto l'uovo. Prima sorpresa? Oh mio Dio, che carino! Dall'uovo di Rowlet è uscito Snorlax. Vediamo se si alterneranno tutte. Sono tipo quei cosi tipo un po' morbidi che sembrano dei portachiavi. Ma dai, carino! Meglio della pallina che mi è uscita l'anno scorso, con la pallina tipo squishy. È il turno di Litten. Almeno dai, sono facili da aprire. C'è questo spago qui che si leva in due secondi. Mi ricordo quando ero piccolo che c'erano quelle fatte con quel nastro adesivo tutto intorno. Mio Dio, andavo nel panico! Farò un verso ogni volta che aprirò un uovo, sappiatelo. E nell'uovo di Litten abbiamo... Vediamo un po'... Rowlet! Stessa tipologia di Snorlax, ovvero un po' morbido, che poi dietro... Ah, qui si vede. Si vede, hanno tipo... Sì, sono portachiavi praticamente. Ok, dai, vediamo se li riusciamo a trovare tutti diversi. Non penso che ce la farò. Appena esce il doppione, urlo proprio. Turno di Popplio! Apriti! Oh mio Dio, questa si è devastata. Cioè... E troviamo... Rowlet di nuovo! Però, però, però... È diverso, è diverso. Si possono trovare in due tipologie diverse. Meno male, meno male. Almeno se troviamo dei doppioni, spero che siano almeno la forma alternativa. Adesso, attenzione, perché quest'uovolo disintegrato... No, c'è dello cioccolato sulla scrivanina! Tocca a Snorlax! Dai, Snorlax, tu che sei grosso, dammi una sorpresa grossa. E attenzione, mi è uscito... Popplio! Che non avevo ancora. Meno male. E per ultimo, Pikachu. Contando che abbiamo uno Snorlax, un Popplio e due Rowlet, praticamente... O mi esce un altro doppione di questi, o mi esce Pikachu, o mi esce Litten. Insomma, uno verrà forse tagliato fuori. O tutti e due. Spero che non mi esca un doppione adesso. Vabbè, contando che di Pikachu ho 3000 cose già di gadget. Meglio che mi esca Litten. Attenzione, vedo del verde... No! Doppione, ragazzi. Abbiamo resistito per quattro uova. All'ultima abbiamo trovato il doppione. Quindi, niente Litten e niente Pikachu. Per Pikachu non mi dispiace, perché, come vi ho già detto, ho 3000 cose di Pikachu. Chi è che non le ha? È la mascotte, è ovvio. Ma Litten? Hashtag nei commenti, pray for Litten. Vabbè, ma che faccio? Concludo il video delle uova senza assaggiare come sono fatte? E che cavolo? Dai, un pezzettino, vediamo come sono. Sono un po' fine. Se sono veramente fine, a me piacciono un po' più spesse. Poi a me il cioccolato al latte non mi fa impazzire. Preferisco il fondente, però va bene. Non penso che sarà malvagio. Proviamo. Buono! È ok, pochi fanatici. Per questo video, quindi, ci possiamo anche fermare qui con un pochino di casino sulla mia scrivania. Un po' di pezzettini di cioccolato sparsi ovunque. E con tutte quelle uova dietro, che dovrò vedere anche chi se le vorrà mangiare. Perché, come vi ho già detto, a me piace fondente il cioccolato. E quello non è fondente. Io vi saluto. Vi invito a lasciare un bel pollice in su. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye! Ciao!